Allora, all'angolo blu abbiamo Orlando D'Ambresio! Ho iniziato circa tre anni e tre mesi fa a fare MMA, avevo una voglia di riscattarmi dallo sport. I miei obiettivi sono vincere il match. Sono l'underdog perché sono meno conosciuto, non perché sono meno bravo. Prometto di dare tutto me stesso, di dare il massimo. Non cederò assolutamente. Come penso di vincere, penso per un KO. Non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa. What follows is a story, what preceded was the clue The lies take to the fiction, just fuck around and make it shit My adversaries crumble when we rumble, it's a catastrophe I put my billions on bitch, niggas that blasted me Plus my aliens to smack a belly I'm loaded 357 with hollow points to a nigga belly Plus I'm gonna see if he bleed, he should've never fucked around With a sick ass nigga like me They call my name out, niggas run Bless me from care for the outlaws, he become They call me Hussein Fatal, it's a two game table I'm robbing your niggas cradle with a knife in your neighbor Rap related, criminally activated and evil I wouldn't want to be evil, I'm fucking dazzling needle to the end I'm telling all friends and enemies You see what I got to make you breathe to touch me, you need to eat Complete load, you wanted on the street to the east coast Young guns fight, ain't nigga bleed, she's shot it like white Donalds and Christmas Angolo rosso, invece, troveremo Carlo Pedersoli Ciao a tutti, sono Carlo Pedersoli Junior E ho fatto per me stesso Quindi questo sarà un match di fuoco Fuoco e Fiamme 1 È un fighter che conosco bene È un match che veramente secondo me può diventare spettacolare E posso dare veramente il meglio di me Sicuramente farò rimanere attaccata la gente alla gabbia perché Dato tutto me stesso e mi sto preparando in maniera straordinaria Sono otto mesi, nove mesi che mi preparo per questo match Porta tutto il cuore là dentro perché io sono preparatissimo ed ero al massimo per vincere questo match E non è lui 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti